L'iniziativa di giugno a Teramo per il Gay Pride? Sì, anche a Teramo il mese di giugno, il mese Pride, insieme all'associazione Afrodite abbiamo organizzato un'iniziativa molto importante che si terrà il 17 e il 18 giugno al Parco Fluviale dalla parte del Campetto di Calcio, in cui ci saranno diverse iniziative, soprattutto per favorire e promuovere i diritti civili, che sono costituzionalmente garantiti e che quindi il Comune di Teramo ha pensato sia una giusta causa per promuovere questa iniziativa. Ok, quindi questo weekend ci sarà questo festival contro natura, poi il 25 giugno ci sarà? Sì, la settimana comunque continuerà con varie iniziative in tutto il territorio abruzzese, per concludere poi dal 23 al 25 in provincia di Teramo. Nella fattispecie il Pride inizierà, per quanto riguarda la provincia di Teramo, inizierà con una camminata al Borsacchio e poi nelle giornate del 24 e del 25 si terrà a Teramo all'università con un talk, una lezione di dipattini, sempre un aperitivo organizzato dall'associazione Afrodite per chiudere la settimana il 25, sempre a Teramo con il Pride, si terrà una sfilata di chiusura.